Professor Lazzari, la questione centrale probabilmente di tutto il convegno, o perlomeno una delle questioni più importanti, bilancio economico, sostenibilità economica di interventi, di protezione catodica, quindi è meglio farla e in notica di efficienza energetica o di efficienza in generale del sistema idrico diventa fondamentale farla, anche per riqualificare un patrimonio esistente che è di enorme importanza per il Paese. Sì, certo, anziché fare dei conteggi economici tal quali, io ho voluto fare un approccio più generale, nel senso di dimostrare che dal punto di vista energetico, cioè andando a vedere qual è l'energia che è congelata nel metallo, se faccio il confronto fra il metallo che si corrode in caso di non protezione e quanto costa invece in termini energetici la protezione catodica, cioè quello che serve in buona sostanza per evitare la perdita del metallo, allora si dimostra subito che conviene applicare la protezione perché dal punto di vista energetico costa meno della metà del costo del metallo che si corroderebbe in assenza di protezione. E questo credo che vada al di là delle considerazioni tipo è sufficiente evitare che sia una perforazione con tutti i costi che sono associati perché la protezione catodica o comunque le tecniche di protezione sono molto più economiche, se confrontate appunto rispetto a quello che è il costo di intervento a seguito dell'incidente o del guasto o della perforazione. Io invece ho voluto dimostrare che intrinsecamente proteggere è più conveniente che non proteggere perché significa salvaguardare anche dal punto di vista energetico il materiale. Per cui diciamo che al di là di tutti i costi indiretti che si possono attribuire al sistema abbiamo appunto una certezza del dato da cui ripartire per dare il là a un processo di efficientamento importante per il paese. Io penso proprio di sì, almeno i conti mi sembrano siano esattamente questi. Appunto al di là dei costi eventuali indiretti a valle di un guasto o di un incidente proteggere in effetti è già di per sé conveniente, economico. E quindi questo è sostenibile per la rete, per l'ambiente e per l'economia. Fatto salvo che sia un ambito maturo, con la protezione catodica, il Politecnico di Milano comunque continua nel suo lavoro di sviluppo sul tema? Beh, noi sì, adesso il nostro laboratorio si occupa di corrosione e quindi di prevenzione, sì, di prevenzione della corrosione dei materiali e la protezione catodica è una delle tecniche. Beh, noi lavoriamo in questo ambito non solo come assistenza specialistica anche per le aziende, per l'industria, in collaborazione con ACCE, ma noi facciamo anche della ricerca in ambito protezione catodica che significa anche nuovi materiali e investigare le tecniche di controllo migliori. Abbiamo visto anche fare dei raffronti tra polietilene, ghisa, acciaio, insomma non è detto che i materiali nuovi siano quelli più adatti per dare un ciclo di vita lungo a tutto il sistema? Ma su questo forse non ho tutti i titoli per poter rispondere in modo adeguato. Io conosco bene i materiali metallici e come proteggerli. Certo, è dimostrato che i materiali metallici, quindi penso alle tubazioni, distribuzione del gas o dell'acqua, hanno dimostrato che se protetti in modo adeguato garantiscono durate che sono ben superiori a quella della vita di un uomo. I nuovi materiali devono ancora dimostrarlo, però forse io sono un po' partigiano. Pensando all'età delle nostre reti mi sembra una cosa molto importante poter intervenire in modo efficace sulle reti in metallo. Io penso proprio così, è chiaro che tra l'altro la protezione catodica di cui parliamo oggi si può applicare sia a tubazioni nuove sia a vecchie, nel senso che se è una tubazione vecchia e ancora in condizioni, anche se di parziale corrosione, però di integrità, cioè non ha perforazione, la protezione catodica blocca la situazione come la trova. Non può certo portare metallo là dove si è perso, però da quel momento in poi il metallo non si perde più. Benissimo, la ringrazio. Prego, grazie a lei.